Grande appuntamento con la box a Montesilvano. Il Comune ospiterà dal 25 al 27 ottobre i campionati italiani School Boys. Ci confermiamo anche questa volta una città molto attenta e recettiva per quello che riguarda gli appuntamenti sportivi di carattere nazionale e internazionale. In questo caso parliamo di un campionato nazionale di pugilistica giovanile. La manifestazione è organizzata dalla Pugilistica di Giacomo e dalla Federazione Italiana Pugilistica. 127 gli atleti da tutta Italia, di cui 7 dovrebbero essere gli abruzzesi, che se le daranno di santa ragione sul ring anche per guadagnare un posto in nazionale. È una grande occasione, dopo l'anno scorso che comunque si è organizzato tanto e fatto tanto per la regione Abruzzo, soprattutto per la provincia di Pescara. Quest'anno proviamo a rilanciare di nuovi ragazzi, a riportarli in nazionale dove merito quest'anno. Ospite d'onore Irma Testa, campionessa europea in carica, è prima pugile italiana a essersi qualificata a un'Olimpiade. Ci vorrebbe più sport un po' per tutti. Lo sport inteso come non il raggiungimento di risultato, ben venga se arriva, ma lo sport inteso proprio come sacrificio che forma una persona, poi un domani adulto. I miei prossimi appuntamenti sono le qualificazioni olimpiche a marzo, quindi incrociamo le dita. E sì, la febbre olimpica ha già colpito gli appassionati di sport. A quelle di Tokyo del 2020 si attende anche una rappresentanza abruzzese di alta qualità. Consideriamo che l'Abruzzo è una regione di 1.300.000 abitanti, quindi ha la forza riferita anche al numero di abitanti, ma io dico che riesce a fare molto di più di quello che sono gli abitanti della regione. Se pensiamo che le ultime Olimpiadi di Rio de Janeiro erano presenti tre atleti abruzzesi, per le prossime Olimpiadi speriamo di avere anche altri atleti, ma sicuramente ci saranno altri atleti.